Allora facciamo solo due canzoni e poi inizia la parte più bella della serata per cui siete tutti qui che state aspettando per chi c'è cioè il karaoke internazionale potete recarvi dai ragazzi a chiedere canzoni soprattutto di Vasco poi per questo vi lasciamo con queste ultime due canzoni di cui la prima è la canzone di Bartu Banda grazie a Bartu Banda cantiamo e scelta la mente sueta come la musica la mente sueta come la musica come la musica come la musica come la musica non è non è la Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.